Una volta un uomo che stava per affongare nel mare, arriva una barca e gli dice ti serve aiuto e lui dice no grazie Dio mi salverà, poi arriva un'altra barca e gli dice ti serve aiuto e lui dice no grazie Dio mi salverà, dopo lui affonga e va in paradiso, allora dice Dio perché non mi hai salvato e Dio dice ti ho mandato due barche, è stupido! Grazie